il settembre buongiorno dalle tenute di albano questa è la piscina di albano buongiorno dalle tenute di albano siamo in piscina e sta iniziando il temporale evviva però c'è il sole che succederà il tempo sta mezzo e mezzo abbiamo fatto pure il temporale oggi 4 settembre colazione alle tenute di albano piscina